Su questa triste vicenda del licenziamento operato da parte dell'azienda Nial Mail e di altri comportamenti abbastanza duri, lesivi della dignità dei lavoratori, la par condicio ci impone di andare direttamente, interloquire con Loredana Castellano che è appunto la titolare. Allora siamo qui appunto dinanzi all'azienda, vedo che ogni tanto cambiano i nomi, le insegne, ma pare che sia qui. Andiamo in presa diretta a vedere cosa succede. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Senta, siamo Telesud, vorremmo parlare con la signora Loredana Castellano perché c'è una protesta per una questione proprio di parità, di opportunità. Vorremmo sapere, insomma, se può verificare cortesemente. Signora, non abbia paura perché non mangiamo nessuno, vogliamo soltanto fare un confronto civile e democratico, ai sensi proprio della par condicio. E' così bello confrontarsi, quindi l'azienda ritiene di aver adottato le sue misure, beh, sarebbe opportuno che dinanzi all'opinione pubblica le spiegasse, se proprio non ha nulla da nascondere. Signora Castellano? Sta arrivando? Sì, sì. No, lei... E' un'altra? Beh, ma lei è la titolare? Ci dicono che questa è un'altra società. Vedremo, non vorremmo che... Signora? Può dirci dov'è la società, così andiamo? Signora? Signora? Mi scusi l'ignoranza, ma noi vorremmo sapere dov'è l'altra società, giusto per poter fare delle riprese in maniera garbata. Ecco, sapere dov'è l'altra società, chiudono la porta. Cosa succede? Signora? Signora, mi perdoni? Noi in maniera garbata le stiamo parlando, non stiamo offendendo nessuno. Ci fa sapere perché è stata licenziata la dipendente? Non vuole rispondere la signora Castellano. Ci dicono che c'è un'altra sede. Ora, non so, io non ne capisco, ma non vorremmo che fossero come le scatole cinesi, una dentro l'altra. Ma vorremmo sapere... Signora Castellano? Signora? Cortesemente? Signora? Mi scusi, no, stiamo chiedendo... Non vuole rispondere, non volete rispondere? Giusto per saperlo. Va bene, come vedete, non vogliono rispondere. Noi in maniera garbata abbiamo chiesto, senza invadere nessuno. Buon lavoro. Mi raccomando, però, evitiamo di licenziare altri dipendenti perché, insomma, la crisi è pesante, il Natale è triste, o no? Come? Come, 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 lo devono capire? Cosa vuol dire? Lei ha detto lo devono capire? Ah, ecco, no, perché dice lo devono capire, cioè come quasi fosse a dire state attenti se noi vi diamo in testa. Beh, evidentemente non ci vogliono rispondere. Mi dispiace, mi dicono che questa non è la sede, non è la sede questa? Ecco, signore, può dirci dov'è la sede così non ci sbagliamo? Se no, ci sbagliamo, veniamo a importunarvi e non vogliamo importunarvi. Ci può dire dov'è la sede, cortesemente? La nuova sede? Mi perdoni, la nuova sede dov'è? Eh, signora, ci può dire... Eh? Eh, no, se mi fa sapere dov'è la nuova sede, così anziché venire qui... Eh, no, ma mi dispiace. La cosa che a me dispiace, sì, ma a me dispiace perché non voglio importunarvi. Se qui non è la sede, e io erroneamente ho sbagliato a venire qui, può dirci dov'è cortesemente? Così andiamo dove è la sede? Cioè, c'è una sede? Dico, c'è una nuova, c'è una sede per sapere, signora... Lei è la signora Castellana? No. Ecco, allora, mi hanno detto che non è qui la sede della Nial Mail. Ci può dire dov'è la sede? Se ci dice dove andiamo, perché io non lo so. Noi sapevamo che era qui e siamo venuti, in maniera garbata e civile. Vedi, stiamo ragionando. Eh sì, ma si può sapere dov'è la sede? Buonasera, buonasera, mi perdoni, io non voglio crearvi fastidio, però vorrei sapere dove è la sede così, anziché stare a vuoto qui, vado e chiedo dove posso parlare in maniera civile, garbata, no? È così bello confrontarsi se non si ha nulla da nascondere. Come vedete, non vogliono rispondere, non si sa dove è la sede, vorremmo scoprire tanto dove è questa sede. Si può sapere dove è la sede, signora? È chiusa la porta, busso, mi dicono, io sto bussando. Buonasera. Buonasera. Dov'è la sede, signora? Eh perché io vengo a vuoto qui, è peccato, anche voi state lavorando, è giusto che lavoriate. Bussiamo al citofono, vediamo, non lo so, è perché è qui, dobbiamo capire. Dov'è? Ecco qui. Cioè, sembra un mistero, mi dicono, non è qui la sede e io giustamente vado via, perché non è qui la sede, però almeno sapere dove è la sede, no? Cioè, uno si domanda dove sia la sede. Non si sa. Vabbè, che vi devo dire? Buon lavoro. Non si sa dove è la sede. Chissà. Buon lavoro e buon anno, buon Natale, che dire? Buone cose, stia bene. Non lo so, uno entra e ci dicono che qui è la sede, però non risponde poi nessuno. Chiediamo dove è la sede, questa sede fantasma e non si sa. Boh, chi lo sa? Come il quarto segreto, il terzo segreto di Fatima, il quarto segreto di Nial Mail, non si sa dove è la sede. Vabbè, vedremo, ci dispiace, ma vedo che proprio non vogliono rispondere. Noi continuiamo, continuiamo e continuiamo, perché dobbiamo scoprire, io non dormo la notte se non so dove è la sede di Nial Mail. Lo scopriremo solo vivendo.